Cronosystem Eurocomponenti con sede a Mansuet dal 1976 Progetta e sviluppa prodotti tecnologicamente avanzati per l'arredo Superfici innovative con alti standard di qualità Pannelli, componenti e bordi che coniugano la tradizione con la modernità E stare al passo con i tempi oggi vuol dire anche praticare scelte etiche Da anni infatti ha per esempio eliminato il processo di verniciatura dei prodotti Sostituendolo con l'applicazione di una sottile lastra di acrilico Scelta ecosostenibile come quella di avalersi di certificazioni forestali Grazie alle quali ha vinto premi internazionali Il consumatore dovrebbe abituarsi a chiedere al rivenditore di mobili O dove li va a acquistare Di avere il mobile con il logo OFSC o PEFC Così si garantisce, anche lui dà un contributo Che il suo mobile non ha portato danno a un interno Cronosystem Eurocomponenti è avanguardia Un'industria artigianale che dà grande valore al capitale umano Esporta l'italianità e il vero made in Italy di qualità all'estero Il 2022 per noi è l'anno di lancio del top da cucina Quindi del piano di lavoro come quello appunto che c'è in questo mobile dietro di me Sarà un top personalizzato di alta qualità Provisto di foratura, di lavello e piano cottura E volendo anche imballato su scatola di cartone In diverse colorazioni, in diverse finiture e su misura del cliente E se oggi la sfida è cogliere le esigenze dei clienti Cronosystem Eurocomponenti ha creato ZeroBact Il trattamento antibatterico delle superfici a ioni d'argento Che garantisce salubrità all'ambiente domestico Nel piano della cucina noi tagliamo la verdura, tagliamo la carne C'è contatto con i cibi Qui abbiamo una necessità importante di avere la massima pulizia Ogni volta che noi puliamo, per esempio, un'anta di una cucina o un piano di lavoro Con una semplice spugna o un panno umido Lui automaticamente si sterilizza L'innovazione è la possibilità di sceglierlo per ammodernare la cucina o il bagno In maniera molto semplice Mantenendo la struttura di base e sostituendo solamente l'esterno Arriva l'artigiano, prende le misure Fa vedere i colori veri Quindi noi rinnoviamo le ante Rinnoviamo il piano tops Se serve rinnoviamo gli elettrodomestici Le mamme, le signore di casa Normalmente non le ringrazia mai nessuno Lo lavorano, 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 lavorano Si meritano un bel posto di lavoro La cucina deve essere bella Perché non rinnovarla? Quindi noi rinnoviamo gli elettrodomestici